eccolo qua oggi vi porto il videogioco di monster allergy videogioco esclusivo rilasciato per le merendine kinder e ferrero un po come i magotti per intenderci a quell'epoca andava forte monster allergy e quindi fu dato l'incarico a dar tematica di sviluppare un videogioco dalle dubbie qualità da rilasciare nelle merendine diciamo quello col pacco doppio quello che si rilasciava in estate è un titolo del 2006 quindi neanche poi tanto vecchio bello maturo ma non poi così tanto e funziona benissimo anche su windows 10 non da nessun minimissimo problema bene dai si parte già da qui voi non lo sentite profumo di capolavoro allora vai iniziamo gioca non so se la musichetta sta andando a scatti o è proprio fatto apposto ma è proprio orribile se è fatto apposto è sparito non può essersi allontanato di solontanato è stato rapito adesso si sono tolzantino di senza dubbio magnacop certamente di sicuro due se stanno accettando ok non so di legge le go per conto mio infatti non so di legge le go per Ah, questa spazio è bella. Fai presto, recupero i pezzi di... Guarda che non c'è il tempo perché se no io spengo subito, eh? No, c'è il tempo. Usando la vista Dome trova tutti i mostri visibili e fatti dare i pezzi dello... Portagli i pezzi mancanti per sapere dov'è il manuale del bravo domatore. Fai presto perché nasce per arrivare. La vista Dome dura poco tempo, ha bisogno di... Ok. Allora, qua i tasti, allora. Ok. Come cazzo si muove? Dio. Allora. Questa è una porta, no? È un pezzo. Allora. Il salto non salta nemmeno, non c'è nessun tasto. Ah no, ok. Z, salta. Ah, questa è la vista, ok, con X. Infatti l'ha detto anche il pulsante X. Bello, ho trovato già un pezzo subito. Proprio senza neanche capire dove cazzo sto andando. Madonna, come si muove. Andiamo prima su, almeno so già che sono andato su. Allora, qua è chiusa, sì. Le porte chiuse non si aprono. Allora, il bagno. Ok, non c'è niente. Madonna, il controllo, che cos'è? Che cos'è il controllo? Ok, eccolo qua. Accidenti, mi hai beccato. Stavi cercando questo, vero? Te lo do, ma stai attento che cercherò di riprendermelo. Ok. Ho trovato un pezzo dello snitchy. Ok, allora. Oddio. No, fide di puttana! È detto che me lo riprendeva. Madonna, è stata la telecamera! Ah, basta! Ah, basta! Non mi segui più? Bene. Allora, iniziamo da qua in fondo. Ok. Ho trovato una gamba. Ok, siamo già a tre pezzi. No, quella mi insegue. No. Fa solo i versi. Niente, andiamo allora. Allora, qui... Mi sembra strano sta cazzo di controllo. Mi sembra strano... Una stanza vuota. Una stanzona vuota. Niente, allora. Qui, via. Andiamo su ancora. Ok. Oh, un'altra gamba! Dello sneak suits. Perfetto. Quattro su cinque. Dai, ne manca una. Ne manca una. Ne manca una. Manca una, dai. Madonna, sto controllo! Praticamente, perché è orribile? Perché? Mi mette l'ansia quel robo là, porca puttana. Perché? Perché quando cambia inquadratura... Quando cambia inquadratura così... Il controllo non va nella direzione dove dovrebbe andare... Ma torna nella sua... Nella sua direzione attuale. Come qui. Io ho cambiato inquadratura... Dovrebbe essere lo stesso tasto. Invece no, è invertito. È fastidiosissimo. Allora. Madonna. E mo' che cazzo è? Ah, eccolo! Oibo! Mi hai trovato. Immagino... Ok. Peccato. Mi piaceva molto. Sotto come lo riprenderò. Ok. Finito. Complimenti. Fino da prima parte del livello. Prima invio per proseguire. Ma che cazzo sta succed... Ma che cazzo... Complimenti. Io vado. Invio. Tò che fregato, bastardo. Oddio. Oddio. Presto. Allora. Si va. Ovviamente. Madonna. Eh, forse gli stanzoni vuoti di prima. Tipo qua non c'era niente. Lo stanzone vuoto di prima. Allora. Sopra era la mia camera. Credo la sua camera. Oh, qua. Ah, qua è dove c'era quello là. Vediamo se c'è ancora. No. Quindi si, sarà nello stanzone di prima. O il bagno. Il bagno c'era qualcosa prima. Sì, avevo trovato una gamba. Credo. Non mi ricordo. La mia camera è questa. No. Sì, era questa la mia camera. No, non è qua. Non è qua. Ah, qua l'ho trovato. Sarà su, allora. Sarà su. Sì, è qua, è qua, è qua. Eccolo. Preso. Non dirmi che devo farlo per cinque volte. Madonna, questo è più capolavoro di Heidi. Beh, è che basta che sento la sua voce. Io controllo comunque, dai. No, ma no, devo sentire la sua voce. Madonna, ma va dove vuole. Va dove vuole. Madonna, ma Heidi era un... Il controller era un capolavoro in confronto. Vabbè che i prodotti italiani, i videogiochi italiani, hanno sempre dato soddisfazioni come questo. Però... Allora, vai... Cucina? Sì, qua, 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 qua. Eccolo qua. No, devo riattivare, porca. Dai, veloce, muoviti, che il tempo scarseggia qui. Preso. Porca paletta. No, il tempo non si... No, il tempo... Non aumenta. No, qua io veramente... Non so già che sclero. E' qui, è qui. Eccolo. Preso. Accidenti, mi hai fregato ancora. Adesso parla bene. Ah no, se tu vuole, ecco. Infatti ho detto. No, ma la logica di chi fa sti giochi... La logica... Cioè, ma... Io provo ad andare ancora giù. Sperando. Dai, non ci credo. 90 secondi. Eccolo. Eh, ma mancano ancora due. Io come faccio in 60 secondi? Ah no, una? Ah, una sola? Eh sì, 4 su 5. Pensa, da quanto mi sto emozionando, che non si capisce. Cioè, che non sto neanche contandoli. No, manca poco tempo, no. Sì, sì. E' qui. Eccolo. Madonna. Accidenti, bella. Madonna, che sudata. Come 35? Devo andare dai vecchi, mi sa. Cos'è che sta succedendo? No, non è di qui. No, 18. Oh, meno mai. No, devo andare da lui, è vero. Zitto! La tua cameva. Covi, up venderlo. Ma no! No, in poco tempo! No, è scaduto il tempo! Non ce l'hai fatta, fa' un culo! Orca di quella puttana schifosa, bastarda! Vai, rifacciamo. Spero che... Il primo era in massarda. Su! Dai, andiamo su. Sì, ok, meno male. Ok, quindi ho già risparmiato un po' di tempo. Dai, su, di corsa, di corsa. Vabbè, comunque dai, ho risparmiato già tanto tempo. Ok, ora, chi se lo ricorda dov'era? Figlio di puttana, ok? Ma forca puttana! 3, 2, 1, muoviti! Dai, che tempo scarseggia! L'ultima era... Nel bagno. Che cazzo sta succedendo qui? Caputtana! Dai, ora... Ora di corsa giù da quell'altro. La conosco a memoria ormai, sa cazzo di casa. Dai, ho 146, dai. Posso prendere fiato. Perché un attimo è venuto fuori ai complimenti, ma poi è scaduto il tempo nel... Vai. Madonna, mai più, mai più. Oddio. Oddio, no. Eh, anch'io ho preso campo. Ah, è arrivato, è vero, ecco. Noella. Ok, cominciamo da qui. Ok, sì, 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 dai, dai, fatemi giocare. Veloci, veloci, veloci. Al prossimo episodio. E ho... Grazie a tutti.